Ciao, sono Marco e nel video di oggi ti parlerò di come aggiungere un breadcrumb in Wordpress. In un video precedente, che puoi trovare suggerito qua sopra, avevo parlato tra le varie ottimizzazioni di WooCommerce, quella appunto di andare ad aggiungere un breadcrumb per, diciamo, andare a migliorare quella che è la navigazione del sito e per organizzare meglio categorie, tag e quant'altro. Oggi in questo video voglio scendere un attimino nel dettaglio e dirti come puoi realizzare appunto il tuo breadcrumb. Come ho già detto nel video, comunque lo ripeto un attimo brevemente, che cosa è fondamentalmente un breadcrumb e a che cosa serve? Sono fondamentalmente quei link di navigazione che trovi spesso in alto nella pagina sotto il menu, che mostrano magari le categorie o l'alberatura del livello superiore che ti hanno portato su quella specifica pagina. Quindi magari quando sei all'interno, non so, di un articolo, di un blog, trovi tutte le categorie appartenenti a quel articolo fino alla home page, oppure quando sei all'interno per quanto riguarda WooCommerce, quando sei all'interno di un singolo prodotto, trovi tutte magari le categorie e gli attributi presenti prima, diciamo, a monte di questo prodotto e che quindi ti consentono di navigare andando sopra di alcuni livelli. Fondamentalmente è quello che noi possiamo trovare come alberatura del sito. Quindi il breadcrumb è fondamentalmente la gerarchia e l'alberatura del sito. Diciamo che esistono tre tipologie, tre macro tipologie di breadcrumb e sono la prima, quella gerarchica, quindi quella di cui stavamo parlando, cioè gli utenti si trovano la struttura del sito. Quindi se sono all'interno di un articolo magari trovano, non so, la categoria del mese, quindi magari il maggio, magari poi trovano l'altra macro categoria che è l'anno 2020 e magari poi trovano home page. Quindi la navigazione è suddivisa appunto sulla base delle categorie e sulla base della gerarchia del sito. Gli altri sono breadcrumb basati sugli attributi, quindi ovviamente quelli di cui parlavo prima relativi agli e-commerce, quindi magari mostrano che cosa ha cercato l'utente. Magari io ho cercato maglietta rossa, io mi trovo all'interno di una pagina di un prodotto che ha una maglietta rossa e il breadcrumb sopra magari mi ripropone quello che ho cercato. Quindi mi trova magliette e magari mi trova categoria rosso e poi c'è la home page naturalmente, sempre come primo step del breadcrumb. L'ultima tipologia è quelle basate sulla cronologia, quindi man mano che noi navighiamo all'interno del sito il breadcrumb in realtà ci ripropone sopra quello che magari le pagine che abbiamo visualizzato precedentemente. Queste sono un pochettino le tre macro categorie per quanto riguarda il breadcrumb. Arriviamo quindi al punto di come è possibile appunto come si può aggiungere un breadcrumb all'interno del nostro WordPress o WooCommerce. Allora il primo suggerimento, quindi la prima soluzione è quella di naturalmente utilizzare plugin. Ce ne sono davvero tantissimi, tra cui uno solo che mi sento di consigliarti che è plugin Yoast SEO che ha la possibilità di attivare un breadcrumb e che ti fornisce delle due righe di codice proprio da dover inserire all'interno della tua pagina di dove vuoi mostrare il breadcrumb o all'interno della pagina del leader del tuo tema. Quindi comunque è indicato, servono un pochettino di conoscenze di programmazione, quindi se non sei in grado, se non conosci la programmazione ti consiglio di affidarti a qualche professionista oppure appunto di fare in modo di trovare qualche tutorial online, fai magari un giro nel mio canale, puoi trovare alcuni video dove spiego un po' come fare questo tipo di modifiche. Il secondo metodo che puoi utilizzare per avere un breadcrumb è molto più semplicemente scegliere un tema che abbia incorporato un breadcrumb, quindi che sia previsto proprio come funzionalità del tema stesso. Ci sono un sacco di temi gratuiti a pagamento che mostrano appunto il breadcrumb, soprattutto per quanto riguarda il settore e-commerce, la maggior parte dei temi ormai lo implementa già di default, quindi il mio consiglio, vai un pochettino a vedere in giro quali sono i temi, guarda se hanno un'organizzazione di tipo breadcrumb, se mostrano il breadcrumb, come è mostrato, come funziona e quale tipo di breadcrumb dei tre che ho detto. Quindi puoi scegliere, puoi basare anche la scelta del tuo tema sulla base appunto di questo, del breadcrumb. L'ultimo modo per aggiungere il breadcrumb è quello tramite codice. qui ancora di più che prima, quindi nel caso dei plugin, nel caso di Yoast SEO, qua devi conoscere la diciamo, devi conoscere la programmazione e non solo, devi sapere come WordPress fa appunto per, come fa WordPress a stampare quelle che magari sono le categorie o magari sono i tag, quindi come dover costruire proprio a mano in maniera personalizzata un breadcrumb secondo quelle che sono le tue esigenze, quindi anche dove mostrarlo, in quali pagine, in quali appunto in quali sezioni va mostrato, dove va mostrato, se lo vuoi subito sotto il menu, prima che iniziano le pagine, questo dipenderà molto da te e appunto dalle tue conoscenze in ambito di programmazione e soprattutto di metodi, classi, hook e function utilizzati da WordPress e ne ho già parlato anche qui spesso sul mio canale, quindi ti consiglio di farti un giro se hai voglia sul mio canale per poter imparare qualcosa in più per quanto riguarda le funzionalità di WordPress e magari potresti appunto riuscire a costruirti un breadcrumb fai da te, ok? Quindi fatto, diciamo, in maniera misurata sul tuo sito e sulla base di quelle che sono appunto le tue necessità. Bene, io spero che questo video ti sia tornato utile e se c'è comunque qualcosa che non ti è chiaro e qualche dubbio, vuoi farmi qualche domanda e qualche approfondimento di cui vorresti parlare, scrivimelo qua sotto nei commenti in modo che appunto ne possiamo discutere, sarò lieto di darti una risposta e se questo video ti è piaciuto metti mi piace, attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video. Ciao!